Noi utilizzeremo 42 milioni di euro circa provenienti dalla legge 145 che prevede finanziamenti alle regioni e quindi per quanto riguarda la quota che va agli interventi diretti della regione Puglia noi investiamo 12 milioni di euro per completare il finanziamento della realizzazione della nuova sede degli uffici e degli archivi della regione Puglia in via Gentile. In questo modo noi andiamo ad eliminare tutti i fitti passivi, andiamo a liberare altri immobili della regione che potranno essere o venduti o adibiti ad altre finalità come ad esempio quello di via Celsuppiani può essere adibita ad una residenza universitaria e quindi con questi 12 milioni di euro andiamo a completare la realizzazione della nuova sede in via Gentile con la cittadella della regione e nei due governi Emiliano 1 ed Emiliano 2 noi abbiamo azzerato i fitti passivi avremo un archivio importante e quindi è un'opera indubbiamente di risanamento del bilancio è un'opera di buon governo. Sono ovviamente opere concentrate su obiettivi specifici e ci auguriamo soprattutto che questa energia ulteriore noi stiamo raschiando il fondo del barile, stiamo raccogliendo tutti i soldi che ancora sono disponibili in capo alla regione Puglia, questi per il vero vengono dal governo per essere sinceri sono gli unici soldi arrivati nell'ultimo anno e mezzo dal governo, per il resto è tutto totalmente fermo e questo ovviamente è un problema gravissimo. Questi soldi sono veramente una pioggia nel deserto Sì